Musica Associati olivicoltori ben ritrovati alla 26esima edizione del periodico 1 luglio 2022. Prosegue la prima fase di maturazione degli olive, il nocciolo è ancora erbaceo, però su alcune varietà di olive da mensa in questa settimana è iniziato l'indurimento. L'azione del caldo e della siccità, ne parliamo sempre sui nostri periodici perché è quello che più ci affligge in questo 2022. Dei controlli che abbiamo eseguito sembra che la cascola delle olive in questa settimana abbia rallentato la propria azione e tutto fa sperare che le olive che ci sono rimangano con caldo di produzione su quello che avevamo pensato di un 20-30%. Però non perdiamo le speranze perché per arrivare alla metà di ottobre, quando andremo a raccogliere le olive, di tempo ce n'è ancora molto. Intanto dobbiamo continuare a mantenere i nostri olive in forma, rafforzandoli, andando ad effettuare degli interventi con corroboranti, alghe e distillato di legno ogni 15 o 20 giorni, in modo da mantenere le olive ben salde, ferme sulle chiome. La difesa fitosanitaria. Dai monitoraggi di questa settimana il volo della tignola sembra essersi esaurito, mentre abbiamo la presenza della mosca dell'oliva. Chi non ha ancora applicato le trappole sopra le proprie chiome e ha intenzione di usare questo sistema di difesa contro il dittero, è bene che lo faccia entro i prossimi giorni. Con l'utilizzo della lavagna andremo anche a meglio definire quali sono le modalità di difesa per questo 2022. La cucinilia. Oramai abbiamo già la presenza di schiuse oltre il 90%. Chi non ha eseguito l'intervento contro la tignola come era stato consigliato utilizzando il Fosmet, è meglio che intervenga, se ha presenza di cuciniglie, utilizzando degli oli minerali. Un nostro associato, Loris Bisognin, ha mandato delle foto interessanti sui deterioramenti di legno di olivo da parte di formiche. Andiamo a valutare le foto e le modalità di contrasto, perché in quest'annata abbiamo una notevole presenza nei nostri oliveti proprio di formiche e in alcuni casi è necessario anche contrastarne la presenza. Parassiti fungini, le alte temperature, ma soprattutto la continua ventilazione nei nostri territori limitano notevolmente le infezioni. Però abbiamo una segnalazione da parte del dottor Giovanni Alberton sulla presenza di qualche infezione di lebra nella pedemontana del grappa. Perciò un'attenzione particolare, se si deve intervenire, utilizzate dei prodotti rameici. Un ringraziamento va anche all'odificio Renna che ci ha mandato in questa settimana delle bellissime immagini di cattura di tignola. Andate ad osservarle, perché scoprirete che questo parassita è presente in maniera notevole in altre realtà olivicole italiane. Perciò con questi cambiamenti climatici non è da escludere che ci troveremo fra qualche anno anche noi ad avere lo stesso problema. Per una facilità di immagine vi abbiamo riportato delle indicazioni su alcune attività di contrasto alla mosca dell'olivo per questo 2022, andando a suddividerli per azioni di difesa integrata e di difesa a basso impatto ambientale o per agricoltura biologica. Nella difesa integrata andiamo a utilizzare degli agrofarmaci che hanno azione adulticida, ovicida e larvicida. Abbiamo a disposizione il Fosmet, il nome commerciale è Spada 200 EC, che può essere utilizzato solo per questo 2022 e dentro il primo novembre del corrente anno, con l'attenzione che se l'abbiamo già utilizzato contro la tignola abbiamo a disposizione un solo intervento fitosanitario. Dopo abbiamo la Città Primida, l'EPIC ad esempio come nome commerciale. Abbiamo a disposizione due interventi fitosanitari, andremo a utilizzarli magari nel mese di agosto o nel mese di settembre. È entrato quest'anno a pieno titolo anche il Sivanto, che come nome chimico ha una dizione difficile, flupiradifurone e di questo si può utilizzarlo una sola volta. Naturalmente la difesa integrata va attuata nel momento in cui tramite questo periodico andiamo a dare le indicazioni di allarme perché si è riscontrata una presenza che supera i limiti di attività economica di danno che può essere arrecato all'interno dell'oliveto, con presenza di numerosità di adulti riscontrati sulle trapole da monitoraggio o di infestazioni che si riscontrano all'interno dell'oliva, con presenza di uova o di larve di prima, di seconda o di terza età. Perciò un'attenzione particolare alle indicazioni che vengono date tramite il periodico. Per azioni invece di contrasto a basso impatto ambientale o da agricoltura biologica abbiamo a disposizione le trappole, le ecotrap, le flipac, le dacustrap che hanno attività nell'abbassare la popolazione di mosca presente all'interno degli oliveti. Sono pertanto di cattura massale, ricordandoci che questa diminuzione di popolazione non supera il 25-30% di adulti presenti, perciò devono essere sempre accompagnate anche da altre attività. Naturalmente le trappole possono benissimo essere utilizzate anche nella difesa integrata. Nella difesa invece dell'agricoltura biologica abbiamo anche a disposizione, oltre che le trappole, anche i prodotti rameici che agiscono sui batteri e infiti dell'oliva o sui batteri simbionti della mosca dell'olivo. Andremo anche magari un'altra volta a definire questi termini. Abbiamo anche dei prodotti repellenti, quali sono? Le polveri di roccia, le bentoniti, i caolini e le zeoliti. Prodotti che fanno anche un'attività di imbrattamento, ombreggiamento, anche in questo caso qui, anche se il termine ombreggiamento non è perfettamente corretto, parlando di polvere di roccia, ma limitano comunque l'azione dei raggi del sole. Pioge funzionano bene, hanno una difficoltà però, una volta che li diamo nei nostri olivetti, una difficoltà di aspersione e naturalmente devono essere rimessi se per caso arrivano piogge che superano gli 8-10 mm di acqua. Abbiamo poi i distillati di legno, anche questi qui hanno un'azione repellente nei confronti del dittero, funzionano anche molto bene e non dimentichiamoci che hanno anche un'azione corroborante. Come invece attività insetticida, per questo tipo di difesa a basso abatto ambientale, abbiamo lo spinosat, nome commerciale è lo spintorfly, è una miscela attrattiva, richiama la mosca dell'olivo, maschi e femmine, con un'attrazione alimentare. È facile nell'andare a distribuirli, non vanno dati a tutta chioma, ma invece vanno aspersi a punti su determinate foglie a metà chioma. Nelle immagini che vi sono proposte si va bene ad individuare le modalità d'utilizzo di questo tipo di prodotto, ricordandoci che per lo spinosat o lo spintorfly non si devono superare le 8 applicazioni all'anno. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci, alla settimana prossima!